Il ramarico è grande da parte di tutti, ci sta che prendere gol a sette minuti dalla fine così c'è il ramarico. Abbiamo già rivisto le immagini, però la linea è rimasta giusta, è messa bene. Ha messo una gran palla a Sarno, fortissima, forte, in quei casi lì la prende il difensore e la prende l'attaccante. Lì è passata sopra Luca Iotti purtroppo e su questa palla hanno fatto il pareggio. Nell'analisi della partita dobbiamo dire la verità che noi in primo quartiere a 20 minuti siamo stati in balia di loro, nel senso che siamo stati molto timorosi, molto poco aggressivi. Il Catania ha palleggiato molto bene e quindi noi abbiamo perso 20 minuti di partita. Però obiettivamente poi la partita l'abbiamo recuperata, l'abbiamo messa sul nostro binario, abbiamo creato diverse occasioni da rete. Sentivo prima che invece solo una traversa. Abbiamo creato molte occasioni e abbiamo sbagliato 3-4 volte anche l'ultimo passaggio in campo aperto. Dispiace perché a quel punto lì la partita dovevamo finire, però io devo fare solo i complimenti perché so che settimana è stata. Difficile, i ragazzi devono solo ringraziarli, siamo anche erottati, molto, soprattutto non sono squalificato. Abbiamo finito con Iotti purtroppo, con i crampi, quindi abbiamo tolto. In 7-8 minuti passavamo anche con 3 centrali difensivi di struttura. Però io ai ragazzi faccio i complimenti perché nelle difficoltà ci sono stati, secondo me, l'unica cosa che devo dire è che i primi 4-20 minuti non possiamo concedere questo tipo di libertà ai giocatori del Catania perché non solo quelli del Catania, ma qualsiasi squadra perché sono stati molto morbidi all'inizio dell'impatto della partita. Noi non è che delle volte ci inventiamo di partire piano per poi finire forte. Ci sono anche gli avversari, probabilmente l'avversario ha avuto l'inerzia della partita prima di noi, noi abbiamo fatto fatica ad accorciare con le mezzali, poi invece sia Pedro, soprattutto Pedro all'inizio e a ruota Mimmo sono riusciti ad andare in avanti con le punte esterne e quindi siamo riusciti a trovare anche una maggiore possibilità di essere pericolosi. Mister, siccome hai parlato di 4-5 punti in più che il Teramo probabilmente meritava, i due punti di oggi li metti tra quelli che il Teramo avrebbe meritato? No, no, no. La partita oggi potevamo vincerla, potevamo anche perderla, però nel complesso della partita, a quel punto lì a 10 minuti dalla fine fai gol, è normale che pensi di portarla a casa. Però ripeto, io non voglio guardare mai indietro, devo guardare in avanti. Ripeto, ci metto la faccia sempre perché sono il responsabile di tutto quello che succede. quindi devo lavorare di più ancora e cercare di portare questa squadra a fare ancora meglio sul piano di risultati. Sulle prestazioni secondo me nelle ultime 14 ne abbiamo sbagliato poco.